Il comitato Michele Bonomo per Siracusa nasce da un'idea che non è sicuramente esibizionistica o votata a quella che può essere la ipervalutazione del soggetto personale Michele Bonomo. L'idea è nata da quella che è stato l'interfacciarsi da parte della cittadinanza con un comitato cittadino che cerca di vedere l'incontro alle esigenze dei residenti. Nella zona della circoscrizione a Gradina si presentavano diversi problemi, tutti i problemi che, ci tengo a dire il sottoscritto, si è sempre impegnato a tentare di risolvere e a risolvere in tantissime situazioni. Tutto questo è avvenuto con più facilità durante un percorso condiviso con l'attuale amministrazione nei primi due anni e mezzo della sindacatura Vicentin. Nel momento stesso in cui c'è stata la rottura all'interno del PDL con la nascita di Forza del Sud, poi Grande Sud, il sottoscritto, lo dice con estrema franchezza, ha colto la palla in balzo per poter scindersi da un percorso che ad oggi risulta fallimentare per questa città. Non dimentichiamo che in questi quattro anni Siracusa rimbalza alle cronome come la provincia, la città più sottosviluppata da un punto di vista economico. Stiamo soffrendo terribilmente, c'è una fortissima crisi in ambito industriale, si perdono tantissimi posti di lavoro. Durante la scorsa legislatura con il sindaco Buffardecci si era innescato un processo di sviluppo turistico per questa città con la nascita del porto turistico. La vicenda Cassoni, piuttosto complessa, piuttosto ingarbugliata, va ad intercalarsi nel percorso di questa amministrazione che a questo punto non è riuscita a sviluppare il processo economico e turistico della città. Si è arrivati a uno scontro, io credo anche troppo duro e troppo acceso, da una parte i cosiddetti definiti, tra virgolette, cementificatori, dall'altra parte gli ambientalisti. Ora io dico, ma è possibile che a Siracusa non si possa arrivare a un punto di incontro, a un punto di dialogo per tentare insieme di risolvere la gravissima crisi, condizione in cui ci troviamo e altre realtà limitrofe a Siracusa? E ora andiamo nello specifico sul porto turistico, per fare un esempio. Catania ha un porto turistico con riposto, Ragusa con Marina di Ragusa, addirittura Licata, Pozzallo ha uno sviluppo turistico nel rapporto che c'è navale con la comunità di Malta. Addirittura quindi Siracusa perde anche terreno in quello che poteva essere il sostegno economico in ambito turistico dai maltesi che si recavano in città. Parlo del turismo perché il turismo è la condizione essenziale per provare a ridare sviluppo alla nostra città. Tornando al discorso del comitato, dopo aver dimostrato nel mio piccolo di poter provare a risolvere tantissime questioni grazie a questo front office quotidiano con i cittadini che si collegano su Facebook, non per voler fare pubblicità, però è uno dei maggiori social network che è presente sulla rete, il cittadino interfacciandosi con il sottoscritto prova a risolvere tantissime questioni superando quello che è poi l'iter burocratico che si incontra presso le amministrazioni. Sicuramente motivo principale di mancanza e di risoluzione dei problemi nella nostra città. Quindi un percorso che avvicina il cittadino, anche le persone, diciamolo francamente, perché con la crisi economica che c'è e la mancanza di lavoro tanta gente non esce neanche di casa. Quindi si innesca questa possibilità per il cittadino, tra virgolette, che può essere demotivato, depresso, non esce di casa, di superare questa sua forma di, chiamiamola tra virgolette, timidezza e poter contribuire nel suo piccolo a tentare di risolvere le problematiche della città. È la cosa bella che insieme si è riusciti a vincere tante battaglie e insieme vogliamo vincerne tante altre. Grazie. Grazie.